Bravo sei, in silenzio radio. Alcatrazze che a quanto pare arriverà all'interno di Warzone e soprattutto vi faccio vedere anche nuove immagini in anteprima. Ma prima di partire vi ricordo oggi saremo in live dalle 13.30 su Twitch, come sempre immancabili e primo link in descrizione per iscrivervi al mio canale di news in tempo reale su Telegram per tutti gli aggiornamenti sul mondo di Call of Duty. Partiamo subito perché ieri i Doom Clan hanno già stabilito il nuovo record del mondo. Sono i primi ad aver raggiunto il livello massimo previsto in questa season iniziale, season 0, praticamente di Black Ops Cold War. Complimenti al Doom Clan, prestigio 3, livello 100, il massimo livello che attualmente è possibile raggiungere. Mentre Carnage Tasty di un altro team competitivo è il primo al mondo ad aver sbloccato la mimetica diamante per i fucili d'assalto. Oggi sul canale di Telegram, rimanete sintonizzati, vi farò vedere un po' di queste mimetiche in anteprima come si vedono all'interno del gioco. Ieri ho fatto un interessante sondaggio per vedere subito quale è il feedback da parte della community sulla vostra mappa preferita 6 contro 6. Io voto satellite e al secondo posto metto Moscow. Fatemi sapere qui sotto nei commenti la vostra classifica. Ieri ha pubblicato un'immagine veramente molto carina per chi ha giocato ovviamente la campagna, Reggie Watkins, che sarebbe il sergente Laurel Sims all'interno del gioco. Ha pubblicato una foto con i suoi compagni di avventura per la campagna, Park, Lazar e Adler durante le riprese con il Moption Capture. Fatemi sapere se avete giocato la campagna e qual è il personaggio che vi ha colpito di più. Sono presenti da ieri nello shop di Modern Warfare e di Warzone numerosi sconti su diversi bundle acquistabili. Vi ricordo che oltre a poter acquistare e vedere le offerte presunti su tutti i bundle disponibili, basterà recarvi nel menu armerie e visionare il progetto arma corrispondente al bundle che cercate. Non è stato però annunciato quando lo sconto sul bundle terminerà. Mentre ieri Activision ha iniziato ad inviare le prime email con il codice sconto per riscattare l'arma bonus di cui vi avevo riportato la guida nei giorni passati. Ve la metto tra i video consigliati in alto a destra per chi non ha seguito la guida perché è veramente molto semplice. Ecco invece la classifica dei titoli più venduti nel 2020 in America al 31 ottobre, classifica NPD Group che conferma Call of Duty Modern Warfare essere il titolo più venduto dell'anno. Ieri sera è arrivata anche una patch 1.05 del peso di 100 MB all'interno di Cold War di cui però la Treyarch non ha rilasciato informazioni. Vi ho detto del discorso delle mappe, ecco invece un'analisi molto interessante da parte di Scamp, un pro player degli Optic che ha confermato come vi dicevo anche in questi giorni all'interno delle mie live che l'arma più forte del gioco è l'MP5 che secondo lui sicuramente è da tenere sotto controllo. Chissà Treyarch che cosa deciderà a riguardo. Invece ieri sera la Treyarch ha annunciato i doppi punti. Bene, proprio da ieri sera alle ore 19 fino a martedì perché prima erano stati annunciati fino a lunedì, poi sono stati estesi di un altro giorno, avrete i doppi punti esperienza da livellare all'interno del gioco. I Visual By Impulse invece hanno voluto omaggiare l'uscita del gioco con un loro concept di mimetica, una variante veramente fantastica dedicata anche alle ITX che è appunto un team competitivo di Call of Duty, fatemi sapere che cosa ne pensate. Chiudiamo il video informativo invece con la mappa Alcatraz. In tantissimi i leakers sono convinti, vi ho fatto vedere anche nei giorni passati, che a dicembre la nuova esperienza Warzone sarà praticamente Alcatraz. Ora non sappiamo se sarà implementata all'interno di Verdansk oppure sarà una mappa bonus. Per chi non lo sapesse Alcatraz era una mappa bonus di Blackout, la Battle Royale di Black Ops 4 che era una Battle Royale non gratis come Warzone ma era inclusa all'interno dell'acquisto appunto di Black Ops 4. Alcatraz secondo noti leaker come TGR e Modern Warzone arriverà a dicembre all'interno appunto di Warzone in una versione completamente nuova. Vi faccio vedere le prime immagini in anteprima in una versione che appunto è sovietica, una versione appunto nuova. Secondo le indiscrezioni dovrebbe chiamarsi Rinascita, quella modalità che vi avevo fatto vedere nei giorni passati che appazza a sorpresa all'interno della caserma dentro a Warzone Rinascita. Farebbe pensare proprio che ci sarà una classifica dedicata soltanto a questa mappa. Quindi alcuni dicono che si chiamerà Rinascita, altri invece si chiamerà l'Isola della Rinascita. Vi avevo fatto vedere anche tutti i vari loghi appunto relativamente a questa cosa, le casse con i loghi della Rinascita, addirittura la cassa quella che potete fare nella pratica di Warzone riporta il logo della Rinascita. Quindi ragazzi a dicembre qualcosa di grosso arriverà a tema Warzone, come più volte ha detto la Treyarch, la sua nuova esperienza riservata, segreta all'interno della Battle Royale. Questo era tutto quello che vi volevo dire nel nuovo video informativo e giornaliero sul mondo di Call of Duty. Noi ci vediamo alle ore 13.30 live. Telegram per tutte le ultime notizie sul mondo di Call of Duty. Oggi usciranno notizie molto importanti anche sul futuro setup delle armi di Cold War. Primo link in descrizione. Mentre noi ci vediamo domani ore 7 qui su YouTube con un nuovo TGCod. Grazie a tutti.